Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale oggi è dedicata all'operazione denominata Perla Nera, eseguita a Caltanissetta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, coordinata dalla Procura Nissena, arresti domiciliari per diversi soggetti, tra imprenditori e funzionari del comune di Caltanissetta, nel mirino di Guardia di Finanza e Carabinieri, diversi episodi di corruzione, concussione, indebita e induzione, abuso d'ufficio e falsità materiale e ideologica in atti pubblici. Vediamo. Terremoto negli alti vertici del comune di Caltanissetta, due dirigenti dell'ufficio tecnico sono stati arrestati con provvidimento ai domiciliari ed altri interdetti per un anno dai pubblici uffici per un sistema di appalti e concessioni edilizie al cimitero Angeli, coinvolte le società di mutuo soccorso che venivano favorite nella costruzione. E' stato detto spropositata, strutture simili a palazzine. I due arrestati sono Armando Amico, ex capo dell'ufficio tecnico, e Giorgio Salamanca, funzionario dello stesso ufficio, per il quale si è parlato addirittura di un sistema Salamanca, un sistema consolidato nel tempo che favoriva le aziende edilizie a lui vicine, anche con interessi familiari, commettendo abusi d'ufficio, falso. I reati contestati sono anche concussione e corruzione. Coinvolto anche il ragioniere generale del comune di Caltanissetta Claudio Bennardo, che è stato interdetto per un anno dai pubblici uffici per una vicenda che riguarda un falso in bilancio e un conto corrente di 800 mila euro, sempre del comune, che non veniva messo all'interno dei bilanci comunali. E' anche il direttore del cimitero Vitto di Palma, al quale è stata data l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. E poi ancora il geometra Silvio Baglio, del comune di San Cataldo, gli imprenditori Calogero Ivano Venniro, di Caltanissetta, l'imprenditore Salvatore Ficarra, di San Cataldo. E poi l'ingegnere Lanzafame, Salvatore Lanzafame ed il geometra Salvatore Longuega, entrambi impiegati nell'ufficio tecnico, nonché i provvedimenti di sequestro per alcune imprese edilizie, come la 2B Costruzioni SRR, che è la ditta individuale Venniro Calogero. E poi ancora sono stati sequestrati provvedimenti restrittivi, nonché mezzi e beni strumentali delle stesse ditte per 1 milione e 500 mila euro. E poi ancora sono state sequestrate le società di mutuo soccorso Regina Margherita, la società cattolica di Santa Maria della Catena, e poi ancora la società militare in congedo, la società Rosso di San Secondo, la Onlus Lams e la sezione Calogero Zucchetto. E ancora a proposito dell'operazione Perla Nera, sentiamo le interviste. Oggi un'importantissima operazione da parte della Procura rispetto ad un sistema che avete chiamato Sistema Salamanca. Era un sistema che riguardava il cimitero, gli appalti, le società di mutuo soccorso. Che indagini avete fatto? Come avete lavorato? L'indagine che si è articolata negli anni, quindi dal 2012 fino all'anno scorso, ha preso le mosse dalle dichiarazioni di un imprenditore che ha fornito i primi elementi. I primi elementi di questo sistema che poi, secondo gli elementi di prova che abbiamo raccolto, riguardavano una gestione privatistica di funzioni pubbliche, è stato poi riscontrato, secondo quella che è la nostra ricostruzione, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che pure avevano notizie essendo inseriti in questo contesto cittadino della situazione, attività di intercettazione telefonica, riscontri documentali. L'indagine della Guardia di Finanza, che riguardava specificamente il settore degli appalti, si è poi intersecata con l'attività di indagine dei carabinieri, che prendendo le mosse dalla situazione del cimitero degli Angeli, ha portato a verificare che anche la situazione dei loculi al cimitero venisse gestita. In realtà, tenendo più conto dell'interesse privato che non dell'interesse pubblico, proprio perché attraverso una rete di relazioni costruita nel tempo, l'interesse pubblico veniva messo da parte e veniva invece realizzato l'interesse privato. Questa, secondo l'ipotesi investigativa, gli elementi di prova li abbiamo messi a disposizione del GIP e il GIP ha ricostruito nell'ordinanza dando atto del lavoro della Procura a questo discorso di sistema, perché è ripetuto nel tempo. Noi abbiamo fotografato situazioni che vanno dal 2011 fino al 2013. Questo sistema consisteva, in un'ultima analisi, nel favorire determinate società che in parte erano amiche e in parte erano direttamente riconducibili al Salamanca. Tutti quei soggetti che oggi sono ai domiciliari risultano aver avuto un ruolo attivo o essere dei beneficiari di questo sistema. Noi abbiamo semplicemente constatato che le società di mutuo soccorso, per ottenere l'autorizzazione e la concessione all'esercizio di queste sepolture che gli sono state concesse, ha pagato i relativi oneri al Comune. Quindi gli è stato dato troppo, ma per quello che gli è stato dato loro hanno pagato quanto dovuto al Comune. Il Comune questo denaro lo ha incamerato, lo ha anche gestito, non lo ha messo a bilancio con l'indicazione della sua provenienza. Ancora cronaca, è stato arrestato dalla polizia di Gela un cittadino romeno presunto autore del tentato omicidio e danni di un connazionale, i particolari in questo servizio. È stato arrestato ieri dalla polizia di Gela il presunto autore del tentato omicidio di un uomo di nazionalità romena a seguito dell'accoltellamento perpetrato nella notte del 4 aprile scorso. Dopo un'intensa attività investigativa sviluppata immediatamente dopo il fatto, attraverso la ricostruzione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona teatro dell'evento criminoso e grazie al contributo dei testimoni oculari si è delineato un grave quadro indiziario a capo di Mihai Remus Dinga, il dirigente del commissariato di Gela, Francesco Marino. Voglio sottolineare la grandissima capacità che in questo caso l'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico sotto la direzione della dottoressa Lavoro Romano ha manifestato dall'inizio del fattaccio, vale a dire il tentato omicidio che come abbiamo evidenziato nel comunicato stampa non si è verificato solo per una pura fatalità e da quando i ragazzi del 113 sono intervenuti sul luogo della violenta lite sfociata poi nella cortellata alle giornate seguenti non hanno mai abbandonato la speranza di riuscire a individuare questo soggetto che come capite bene già molto spesso a Gela c'è poca collaborazione di questo sempre noi forse dall'ordine con la magistratura sollecitiamo più sinergia figuratevi all'interno della comunità romena quanta poca collaborazione il personale operante ha ricevuto malgrado ciò si è riusciti analizzando strumentazioni tecniche, mi riferisco alle telecamere dei luoghi a un ottimo rapporto che poi si è staurato anche con la vittima grazie alla libertà degli operanti ad avere quegli indizi poi peraltro gravissime raccolte che hanno permesso l'autorità giudiziaria di fare la richiesta al giudice che ci ha dato la misura cautolare proprio per mettere un punto fermo alla risoluzione di questo efferato gesto vale a dire appunto il tendato omicidio per giunta per futili motivi è stato arrestato ieri dagli uomini della squadra mobile sezione antidroga di Caltanissetta un nisseno di 35 anni si tratta di Giuseppe Palermo disoccupato l'uomo a seguito di una mirata attività investigativa è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti presso l'abitazione dell'uomo è stato rinvenuto e sequestrato un kit per spacciatori nonché sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana detenevano marijuana hashish e tutto l'occorrente per il taglio e il confezionamento dello stupefacente nei pressi di un'abitazione di campagna due giovani diniscemi sono stati sorpresi in fragranza di reato e denunciati stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dagli uomini del commissariato Nisce Mese diretti dal commissario capo Andrea Monaco Importante operazione della Polizia Municipale di Gela ieri al mercato settimanale l'approfondimento in questo servizio Un'operazione di polizia non aria è stata condotta ieri dalla Polizia Municipale di Gela presso il mercato settimanale l'intero perimetro mercatale è stato cinturato da decine di agenti anche in Borghese di Polizia Municipale Durante l'operazione sono stati sequestrati ortaggi, bancarelle, stereo e un numero particolarmente rilevante di CD privi di marchio SIAE Sono stati inoltre verbalizzati numerosi ambulanti privi di posteggio all'interno del mercato L'operazione si inquadra nell'ambito del programma amministrativo volto a riportare ordine e legalità nell'economia cittadina il comandante Giuseppe Montana Abbiamo contotto delle operazioni di polizia a non aria per riportare un po' di ordine e di legalità nell'ambito dell'economia cittadina perché sappiate bene, si sa bene che la concorrenza stradeale sicuramente comporta un grave danno all'economia e soprattutto a coloro che operano nell'ambito dell'economia cittadina e quindi i commercianti Un'ultima operazione a non aria che abbiamo contotto è riguardata il mercato settimanale Nell'ambito di questa operazione che ha visto impegnate decine di vigili urbani anche in Porghese sono stati sequestrati numerosi beni tra cui addirittura un'intera bancarella, numerosi cd, uno stereo, anche frutta o meglio ortaggi Si tratta di un'operazione non isolata ma di un'operazione che costituisce l'ultima delle tante eseguite all'interno del mercato settimanale dove sono state rilevate numerose sanzioni ultimamente si parla di decine e decine di verbali fatti all'interno del mercato settimanale ma la polizia a non aria non si è limitata ovviamente al mercato settimanale come si sa bene ultimamente ha toccato numerosi aspetti della vita cittadina anche altri mercati rionali come quello di via Madonna del Rosario e anche ambulanti abusivi come anche numerosi esercizi a posto fisso si tratta del tentativo che la polizia municipale insimpiosi con l'amministrazione comunale sta tentando di realizzare proprio per riportare serenità e legalità all'interno dell'economia cittadina Ancora a cronaca un 47enne di Niscemi ha perso la vita dopo lo schianto della sua Audi A3 lungo la strada 117 bis Gela Catania un gelese trasferito a Caltagirone gravemente ferito un operaio dell'indotto Eni che viaggiava su una Fiat Panda altri due feriti erano a bordo di un SUV non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente i feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Gravina di Caltagirone Il sindaco di Gela Domenico Messinesi ha firmato un'ordinanza con cui vieta ai residenti di via Senatore Damaggio l'uso dell'acqua a fini alimentari L'atto segue la comunicazione del servizio igiene e alimenti nutrizione dell'azienda sanitaria provinciale secondo la quale campioni di acqua potabile prelevati dai contatori dell'arteria in questione non sono risultati conformi ai parametri previsti a causa del superamento dei valori di torbidità inoltre il dirigente medico responsabile del servizio igiene degli ambienti di vita del distretto gelese della stessa ASPA riferito della contaminazione di batteri nel rapporto di prova ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati studio per la seconda parte del nostro telegiornale c'è grande attesa per il recital pianistico del gelese Alberto Ferro con cui si sosterrà il progetto Music Lab per la scuola appuntamento previsto per domenica 17 aprile prossimo alle 19.30 al teatro comunale Eschilo su iniziativa dell'associazione perfetta Letizia presieduta da Giuseppe Failla questo è un evento di altissimo livello artistico lo attendeva tutta la città e abbiamo interpretato questo sentimento e chiesto ad Alberto di donare questo concerto alla città lo abbiamo proposto all'amministrazione comunale la quale si è data immediatamente disponibile pertanto domenica 17 aprile alle ore 19.30 al teatro Eschilo avremo la possibilità di godere veramente di una grande esecuzione pianistica verrà eseguito un programma di alto livello ci tengo a precisare che la finalità dell'evento è solidaristica infatti abbiamo individuato insieme al main sponsor di Geronimo una scuola di un quartiere di periferia l'istituto del quartiere Albani-Roccella dove si svolgerà un progetto denominato progetto Music Lab intitolato a Giovanni di Geronimo musicista che tutti voi conoscete che ha svolto questa attività di vendita di strumenti musicali nella nostra città per tantissimi anni e quindi i giovinetti hanno l'opportunità in quel quartiere dove non vi sono delle realtà aggregative se non la scuola nelle attività pomeridiane di avvicinarsi alla musica perché verranno donati strumenti musicali materiale didattico e tutto ciò che necessita per mettere in piedi un progetto di laboratorio musicale il maestro Alberto Ferro è tra i finalisti di uno dei più importanti concorsi pianistici al mondo il Queen Elizabeth che si svolge al Bruxelles che in Europa è secondo solo allo Chopin di Varsavia il maestro eseguirà il repertorio richiesto in quel concorso che è un repertorio molto bello ma di difficile esecuzione gli autori eseguiti saranno Chopin, Lis, Rachmaninov e Shostakovich un'occasione importante per far conoscere ai cittadini di Gela un loro paesano che si è distinto nel mondo un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale e che avremo il modo di apprezzare tutti credo che sia un riconoscimento dovuto a chi porta alto il nome di Gela nel mondo questo evento è legato a portare avanti la cultura della musica nella nostra città infatti insieme alla direttrice marchiciana della scuola di Albani-Roccella verrà sviluppato un progetto per consentire oltre all'orario scolastico ai ragazzi di poter apprendere l'arte della musica con gli strumenti che verranno donati con i soldi che verranno raccoltati a questa manifestazione Si svolgerà a Caltanissette i prossimi 6, 7 e 8 maggio il quarto corso base per diventare clown di Corsia il progetto formativo è organizzato dall'associazione VIP Viviamo in Positivo federata con VIP Italia Ollus per informazioni bisognerà contattare clown smidollate e sordella ai numeri di telefono 328-88-29948 oppure 328-9560-273 c'è anche una pagina Facebook e un sito internet all'indirizzo web www.vipcaltanissetta.it Sarà celebrata domani presso la sede centrale di Via Butera dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela diretto da Agatha Guelli la giornata conclusiva della Settimana delle Scienze che ha recepito una nota del MIUR sulla STEM Science, Technology, Engineer and Mathematics i ragazzi e le ragazze della scuola nei giorni appena trascorsi guidati dagli insegnanti di matematica e scienza hanno avuto modo di fare diverse esperienze di laboratorio legate al mondo tecnologico e scientifico con gli insegnanti di storia e italiano invece hanno realizzato delle ricerche sulle figure femminili che si sono particolarmente distinte in ambito scientifico Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale e questo è il titolo del convegno promosso dalla diocesi di Piazza Armerina tramite l'osservatorio pastorale di Gela fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si terrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela l'osservatorio pastorale cittadino composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi e presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale cambiamo argomento ci occupiamo di sport c'è il calcio il gele insegue un sogno si chiama Serie D domenica il presti biancazzurri ospiteranno il CUS Palermo bisogna soltanto vincere per festeggiare tifosi a caccia del biglietto sentiamo il capitano Alessandro Bonaffini Bonaffini monta l'attesa in città per la sfida che deciderà un campionato domenica prossima col CUS Palermo si deve vincere ed è chiaro che la città si deve stringere attorno alla squadra c'è una Serie D da conquistare voi siete pronti e la Serie D vi aspetta si noi stiamo preparando la partita come tutte le altre sappiamo che è una partita in cui con una vittoria festeggiamo la vittoria del campionato e quindi domenica abbiamo bisogno oltre oltre a pubblico che ci dia una grande mano ma noi cerchiamo di regalargli questa questa bellissima gioia tornando indietro di qualche giorno cosa è mancato a Paceco per fare risultato col Dattilo ma è Paceco a Paceco siamo andati lì per vincere credo che abbiamo fatto un'ottima un'ottima gara peccato per l'episodio del calcio di rigore ma credo che i punti il pareggio era il risultato il risultato più giusto il calcio è anche questo gli episodi gli episodi sono fondamentali in questo caso è andato a favore del Dattilo e quindi ci rimbocchiamo le maniche per noi cambiava poco perché in ogni caso anche una vittoria contro il Dattilo lo potevamo festeggiare ma contro la Cusse dovevamo vincere ugualmente quindi cambia ben poco noi siamo sereni siamo sempre i primi della classe abbiamo due punti sempre davanti agli altri quindi per noi cambia poco il tuo gol domenica scorsa poteva significare promozione diretta se vogliamo e invece non è stato così sì peccato più che altro al di là del gol eravamo passati pure in bandaggio contro una grande squadra che è il Dattilo e credo che il Dattilo l'ha dimostrato per tutto per tutto il campionato non per caso per tanto tempo è stato è stato lì prima in classifica però ripeto preferivo una vittoria o almeno un pareggio del gol però ripeto cancelliamo e mi auguro di potermi ripetere domeniche magari può essere quello che ci regalerà la gioia poter vincere col Gela per Bonafini che significato ha vincere il campionato intendiamo ma per me intanto è un motivo un motivo d'orgoglio perché vestire la maglia del Gela per me per me è un onore esserlo da capitano veramente ci tengo veramente ci tengo veramente perché scrivere la storia con questa maglia non apprezzo quindi domenica faremo di tutto per cercare di scrivere una bellissima pagina di storia che questa società e questa città merita veramente infine c'è l'informazione cinematografica e ustica per 35 anni ti hanno nascosto la verità il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30 19.30 21.30 stasera alle 21 e giovedì 14 aprile alle 18 e alle 21 nell'ambito della stagione teatrale sarà portata in scena lo spettacolo attenti a quei due la regia è di Luigi Licata bene tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci grazie a tutti i nostri spettacolo grazie a tutti i nostri spettacoli grazie a tutti i nostri spettacoli